Ben trovati a Fisco Radio, è arrivato il momento di parlare dell'Inps perché ha pubblicato la circolare numero 14 del 2019 con le istruzioni per le domande di accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero il cosiddetto bonus nido. Hanno accesso tutti i genitori sia italiani che stranieri regolarmente iscritti e residenti in Italia senza limite di reddito. La domanda può essere presentata online o naturalmente presso i CAF come il nostro, il Caffucci, a partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 quindi adesso si può presentare e fino alle 23 e 59 del 31 dicembre 2019. L'istituto precisa che le risorse a disposizione per il 2019 sono pari a 300 milioni di euro e le domande verranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui venga raggiunto quindi il limite di spesa l'Inps non prenderà più in considerazione le ulteriori domande. In queste domande è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, le forme di assistenza domiciliare a favore di bambini di età inferiori a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche e si può fruire quindi del beneficio anche per più figli ma è necessario presentare una domanda per ciascuno di loro. Anche chi ha richiesto il bonus negli anni precedenti per lo stesso bambino deve fare una nuova domanda anche per il 2019. 2019